Vi propongo una sfida Dividiamoci in due squadre Fronteggeremo ondate su ondate di mostri Cercheranno di distruggere la nostra base Ma noi dovremo difenderla Quella squadra tra noi due Che riuscirà a difendersi per più tempo Sarà la squadra vincitrice Ci state pusillanimi azzurri? Ci state Assolutamente sì Vi ho battezzato la squadra Allora voi siete i pusillanimi azzurri E noi siamo le carote del deserto Wow E noi non piacciono le carote E va bene lo stesso Siete pronti? Prontissimi Benissimo Allora via Fere 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 veloce Prendi tutti i blocchi Prendi tutte le cose Dobbiamo costruire una bella base Tieni questo secchiello Tieni questi blocchi Grazie Eh le ho già preso blocchi Non me ne servono altri Ricordati Stai esagerando Il nostro obiettivo è difendere questo coso Eh lo so Che dobbiamo difendere questo nexus Questo vale più delle nostre vite Quindi cerchiamo di fare una fortezza Che riesce Io farei tipo 40 strati di muro Stef non ti vorrei mettere ansia Ma la Ionan hanno già incominciato E noi siamo ancora fermi Ok Allora Ti seguo Facciamo un doppio strato Perché praticamente i mostri che arrivano Possono sfondare i blocchi Ok Quindi questo è un problema Non lo so Già pronti a partire Tu stai esagerando Stef Fere tieni l'ossidiana E proteggi il nucleo Io invece continuo a fare tutto il perimetro Con doppio strato di muro Per cercare Allora ma come lo proteggo Proprio attaccato Oppure la sono Sì Fere 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 Deve scomparire Come deve scomparire Noi non dobbiamo più vederlo Ma poi non riusciamo ad azionarlo Stef Hai ragione Allora lascia un buco Un quadratino Un quadratino Ok vai Ok Sarà il fortino Più bello di sempre A parte che sto finendo dei blocchi Eh sì No vabbè Ne ho anch'io Ne ho anch'io Vabbè allora dai Siamo tranquilli Praticamente arrivano dei mostri Che hanno E allora non ha molto senso Fare le due colonne Hanno delle scale Ok E si arrampi Ok perfetto È una roba Comano delle scale Cosa vuol dire Si piantano delle scale Tipo signore degli anelli Ma sono dei muratori Eh più o meno Pugano quella scale Ti distruggono Vai tappa qui Ok Io a questo punto farei Delle quattro fortezzine Delle sorte di torrettine Dove stare noi per sparare Ok Con delle scalette per salire Dato che ce le abbiamo Ok Fere Non sta andando male Ma dobbiamo continuare A fare diverse cose Allora Sì assolutamente Ok non è male Come sta uscendo Io pensavo di mettere Un pochettino di sbarre qui Per proteggere Spostati Così Per proteggere il lato frontale Sì assolutamente Ok E così potrebbero dare una mano Dopodiché mettiamo Le 32 ragnatele Che abbiamo Un pochettino Intorno Vai Guarda eh Guarda come te le metto Vai perfetto Così tutti intorno Così i mostri possono essere Rallentati dalle ragnatele E scommetto che le schiveranno Prontamente Perché con la fortuna che abbiamo Non le mettiamo pure nel posto sbagliato È probabile È probabile Però ci impegniamo Mentre ne sto mettendo Mi ci sto incastrando io Bellissimo Come va Benissimo grazie Bene bene A voi come va Niente Io pensavo benino invece Benissimo A dirittura Abbiamo una fortezza Proprio inespugnabile Ma voi avete finito I materiali Quasi Davvero Noi no Si avanza parecchio Perché l'abbiamo fatto molto alto Dobbiamo fare un trade Abbiamo fatto tanto No Come no Forse ci conviene Scusami Potrebbe essere vantaggioso Almeno ascolta Stem Scusami Cosa ci offri Allora io Prima di tutto vediamo se avete Quello che mi serve Ok Vorrei ragnatele Le avete finite Sì Ne possiamo togliere qualcuna Magari Non si possono togliere Cosa avete da tradeare Sentiamo Allora C'è rimasta tantissima legna Ma proprio tanta 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 Io ho un po' di pietra Non è che ho tanta Pietra Sì pietra ne abbiamo Ma vedi non sono interessati Fere No 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 Non ci parlare con questi due mercanti qua Non sono Non fanno belli affari Non ci interessa Ma non è vero che non faccio belli affari Ti volevo proporre qualcosa di Preziosissimo Sì Siamo noi che abbiamo sprecato tutto Steph Quindi zitto Dai Stavo pensando Come risaliamo nella fortezza Quando scendiamo per combattere Perché non voglio già sprecare le frecce Da qui Guarda lo puoi fare Usi le sbarre Pam 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 Perfetto Allora siamo tutto a posto Io starei direttamente a terra Fere e combatterei così Quando si farà dura Arrivano Passerei ad arco e frecce Alla sinistra Sì sì Li vedo Li vedo Li vedo Uno è anche armato Cosa vuoi fare Cosa volete fare Che siamo soltanto Alla prima ondata E siete ancora scarsi e puzzoni Lo vedi Praticamente quello lì Luminatore Ti sfonda tutto Arriva e ti sfonda la base Sì sì ci penso io Ci penso io Questi e quelli a cui dobbiamo stare Realmente attenti Ok io sto picchiando questo qui Buffy Ma sai che per essere l'ondata uno Inizia ad essere già faticosa Eh un pochino sì E io qualche cuoricino l'ho perso Quindi non è stato proprio Mangia mangia Di cosa ti mangia Certo Lo so che devo mangiare C'è uno di quelli maiale Che non si sono accorti che c'è E credo che gli stia sfondando la base In questo momento Oh no Sì sì dal lato destro No però che brutto Steph la prima ondata è quasi completata Ah dove puoi vederlo Dalla chat Che tu ti sei tolto Io lo posso leggere Ci sono le scritte Che ti dico E quanti ce ne mancano Finiti Finiti Dice che praticamente Sta per cominciare la wave 2 Quindi dobbiamo essere prontissimi Iniziare la seconda Per ora è semplicissimo Cioè con la nostra fortezzina strabella Zero difficoltà Lo sai che in questi giochi Le prime ondate fanno ridere Le altre poi ti spaccano la faccia E infatti sta già arrivando Il primo scheletro Io me l'ho già dimenticato Delle eventualità degli scheletri Io lo chiamo maiale Stavolta una scala Il maiale è una scala No 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 Bloccalo subito Si vuole rarappicare sto qua Va a te Picchialo 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 Non ci provare L'ho ucciso Ok perfetto Teffa aiuto è fortissimo Ma chi è Ok lo stesso Non hai capito quanti colpi L'ho dato a un certo punto Mi è arrivato proprio in rincorsa Mi ha dato una testata E ti assicuro che era proprio una testata Ok ne sta arrivando un altro Mi dai una mano No aiuto Aspetta fammi mangiare e recuperare i cuori Mi ha lasciato un cuore Ma corre ma è pazzo Te l'ho detto che è fortissimo Che ti corre incontro Picchialo 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 Ok è un dato a due quasi completa Steph resisti Resisti Ok Ok Aspetta c'è uno lì Avevo detto che era semplice Ma Stai No 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 Stai Ad essere un po' complicato Quel cosa Come lo chiamiamo Perché io voglio un nome per ogni cosa Allora abbiamo il maiale scala E il maiale piccone Ok Il maiale martello Il maiale martello Ok maiale martello Maiale scala E poi questo lo chiamiamo Gigante toro Cioè a me sta avendo addosso un ragno Che sembra più grande Anche a me sembra Che succede Ha fatto un uovo Come ha fatto un uovo Guarda che schifo Oddio qua c'è un ragno stranissimo Ma che uovere Sono usciti due ragni piccoli Non ha roba schifosa Mi dispiace Mi attaccano Ti devo dire Mi saltano addosso Che schifo Allora Praticamente Ogni ondata Stanno arrivando cose nuove Che non conosco Sì assolutamente C'è stato questo ragno più grande Ha fatto un bozzolo Da quel bozzolo Sono usciti quattro ragnetti Piccoli 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 Che ti saltano addosso Oh mamma mia Vede c'è quello con le scale Dammi da male Ragni Oh è già difficile Per essere il creeper Per essere il creeper Per esplodere Siamo fregati Io sono incastrato in una ragnatela Anche io Ok ne sono uscito Salto e vado Salto e vado E combatto Valorosamente Steph A differenza tua Vi è capitato il ragno Che fa il bozzolo Che fa uscire i ragnetti No A noi è capitato il maiale Che mette le scale però Anche quello Sì 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 Ma il ragno Che fa il bozzolo Con quattro ragnetti Che ti saltano addosso È il panico State attenti Guarda che ormai Iniziano ad essere Veramente tanti Inizia ad essere tosto E poi ho avuto un pensiero Che voglio condividere con voi Dicaci Allora la mia spada Già è tipo quasi a metà Già già Hai avuto anche tu Questo pensiero Sì 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 Questo è un problema E poi lo facciamo Non ci abbiamo pensato A questo problema No Per è andata a 5 giusto Eh sì assolutamente Quindi poi mancano Altre 5 date Per la spada indiavante Comunque Allora il Nexus Produce questa rift Bla 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 Si chiama per essere precise Rift Flux Ok Con tre rift flux Puoi potenziare La spada indiamante Per renderla molto più potente Ok Con 5 rift flux Invece puoi potenziare l'arco Ok Oh mio dio Fere c'è un cavolo di ragno Sopra la base Vado io Vado io Vado io Perché questi così si arrampicano Meno male che è protetto Vai via Vai via Ok Via non ti vuole nessuno C'è uno di quei ragni giganti Che fa il bozzolo Perché toccano sempre a me quelli Perché Perché Io li odio Non li sopporto Il gioco lo sa Ecco qua Ti prego Distruggilo Distruggilo per una volta Steph Oh Ce l'ho fatta Oh mamma mia Lo vedi Oh mamma mia Che cos'è All'inizio io pensavo fosse un cactus Poi mi son reso conto che si muoveva E allora ha fatto No non è un cactus Ok Ed è qualcosa da picchiare Ah Lancia pietre No vabbè No vabbè Ci ha fatto un buco Steph ci ha fatto un buco No fare Picchia È ciccionissimo Sembra un lottatore di sumo Oh mamma mia Allora Non è troppo forte Ma lancia pietre Che fanno buchi No vieni a vedere Questo è il buco che lui ha fatto L'ho visto totalmente Questo buco l'ha fatto lui Ti vedi C'è un altro di quello Io spero che l'altro Oh che ne ha colpito C'è un ragnettino Un ragnettino per terra Ma cavolo Io stavo guardando Cercando un ragn L'altro è di lion E lion non se ne è accorto Ok Qui Che succede Le pietre Allora Ferre 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 Ho fatto una voragine Ferre giù un tipo con le scale Oh no no Io vado al tipo delle scale Tu pensi a quello ciccione Sì ma mi sta sfondando la base Maledetto Maledetto C'è pure un Aiuto Steph Aiuto Oh mio Dio Sto rischiando di morire Oh mio Dio Si è rotta la spada Meno male che ho fatto Quella in pietra Ragnettini Morite No vabbè C'è quello gigante Fortissimo Ferre Steph sta arrivando persone Con le armature in gold Che corrono Girati Ferre non hai idea Mi serve una mano Aiuto Aiuto No Steph è il delirio Lo so Non ce la faccio Lo so Steph non ce la faccio Ferre Ferre Ci hanno sfondato base Non ce la faccio Tu torna alla base Tu torna alla base Pensa alla base Pensa alla base Ma questo sta scavando qui sotto Lo vedi Disgraziato È fortissimo Non ce la faccio Steph muoio Mi devi aiutare No Mi hanno ucciso Allora torna in vita veloce Tanto abbiamo letto qua Ferre Io te lo sconfigo E tu ti riprendi la tua roba Ok Vabbè C'è i ragnettini da dietro Che cercano di farmi cadere di sotto E certo se non mi dai una mano Ferre io avevo un altro E l'ho capito ma non fa Lo so è troppo difficile No hanno fatto scale ovunque Oddio No guarda questo Era vicino al Nexus Forse ci ha picchiato il Nexus No non me lo dire Non ho idea Non me lo dire Non lo so Non lo so Però era arrivato al Nexus Siamo all'ondata 8 Sì Oh mamma mia Sto sudando Ti dico la verità Anche io Allora Io sono rimasto a spada di pietra Per di più Ok Quindi non ho più quelle in ferro Ed è una difficoltà giunta Io ancora un pochettino di quelle in ferro Stai iniziando l'ondata 8 Auguri Steph Grazie Buona fortuna Facciamo una preghiera Se vuoi in questo momento Allora Secondo me ci dobbiamo dividere il lavoro così al momento Tu stai vicino alla base Proprio vicinissima E stai attenta a quelli che cercano di scavare E fare scale Eh lo so Ci avevo già provato a farlo Anche nel round precedente Però non è andata bene Perché sono forti Sono veloci E sono tanti Capito Lo so No vabbè guarda l'invasione Fai attento ai ragnetti Oh oh Non mi devi aiuta E io sono qua Che tipo Le ragnette le qua vicino Sono state una pessima idea Creeper non ci provare Te lo dico eh Sì 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 Il creeper li ha fatti esplodere Una pessima Perfetto Grazie Grazie Braggio basta Quanti sono Quanti figli fa Allora vedi qua Questi qua sono fatti da loro Non sono fatti da noi Cioè sono talmente furbi Che si fanno dei blocchi Per superare il burrone E arrivare alla base Sì 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 Abbiamo finito la 8 vero Sì sta iniziando la 9 Perfetto Ci siamo quasi allora Sono morto No Vado a recuperare la mia roba Oh mamma mia Oh no no Oh no ti prego Sono troppi Sono troppi Questa volta stiamo rischiando Andatevene via Via Questo per fortuna Si è incastrato qui sotto Ci sono due di quelli fortissimi Un ragno che mi salta addosso Arriva 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 Sono rimorto È troppo Sto morrendo tantissimo È troppo difficile È troppo difficile Siete in panico Tantissimo Stiamo riuscendo a tenere la situazione Abbastanza sotto controllo Se vuoi ti aiuto Tirando qualche freccia No no ma non ci provare neanche per sbaglio Guarda No 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 Ma guarda da te ce n'è uno Guarda Sono giganti Sono giganti Tre insieme Tre insieme Tre insieme sono arrivati di quelli Pensate che sfiga Non so se è la tua C'è urgenza Mi hai rubato la roba Lo so non trovo più la mia Devo ucciderli Che devo fa Aiuto La picchia a mani nuda Siamo ancora alla 9 Tieni tieni Prenditela Prenditela Grazie Ok ammazzo questo ragno Dimmi che è finita Cioè mancano pochi mob No vabbè Sono morti anche Lion e Anne In questo momento Ok sì sì Loro sono venuti a prendere in giro E sono arrivati All'improvviso Anche da loro un sacco di mostri Esatto Io l'ho detto che era tosta L'ho detto Ho una spada Ho una spada Ragazzi è finita la 10 Teoricamente dovremmo fermarci Eh noi quasi Siamo credo in alto mare Non lo so se abbiamo finito la 10 Credo di sì Voi l'avete sicuramente finito Ok È già finita la nostra Questa è la 11 Eh ci stanno distruggendo tutta Ok allora che cosa facciamo Fermiamo Sì Assolutamente Dobbiamo rompere il Nexus Ok Non so come funziona Proviamo a romperlo Oh mio Dio Aiuto Cioè siamo tutti pesti Pieni di frecce Occhi neri Cioè abbiamo più occhi neri che occhi È una cosa incredibile Io non riconosco più il mio fortino Allora Già voi siete fortunati Che avete una spada di pietra E una di ferro No Cioè com'è possibile Io ho quattro spade di ferro Caro mio Le danno i mob Se infortuna Te le danno i mob Quando li uccidi Capito Quindi ce ne siamo recuperati Brutto sporco Cioè a noi non è natata neanche una A noi neanche una Però noi ci davano le armature Che adesso abbiamo perso Però Eh anch'io l'ho avuta per un periodo Parli di questa caro Ne ho quattro anche di queste Vabbè io lo ammazzo Mi prendo tutto Vieni qua No 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 Vai via Vai via Va bene va bene Ok fermo Tanto al prossimo round Esatto Partiremo immediatamente dall'ondata 10 Cioè dove siamo arrivati ora E Partiremo di nuovo Da zero Quindi tutte le tue armature Te le puoi anche tenere Aia Bene È stato difficile Moderatamente fino all'ondata 9 Sì esatto E poi all'improvviso E poi diventato impossibile Infatti per il prossimo round Secondo me dovremmo prepararci bene Sì Anche secondo me Se partiamo dalla 10 Ah io la vedo molto difficile Esatto Per i ragazzi Non ci vedete Lasciateci un bel like E se la prima volta che avete visto il nostro video Potete considerare Da iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao E alla prossima Ciao ciao Grazie a tutti Grazie a tutti.